Ben trovati all'appuntamento con l'informazione, l'apertura la dedichiamo ancora una volta al nuovo ospedale, ovviamente dopo la notizia del recupero del finanziamento di 120 milioni di euro per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera, oggi si apre il dibattito che passa inevitabilmente per la individuazione della nuova area. La Giunta Comunale di Siracusa faccia avere al Consiglio Comunale le indicazioni relativamente all'area dove costruire il nuovo ospedale, un'area che deve essere idonea a servizio della città di Siracusa e sicuramente deve essere in grado di rispondere alle esigenze di un ospedale che deve servire per il prossimo secolo. L'esortazione è dell'ex parlamentare regionale Enzo Vinciullo che ripercorre la vicenda. Il finanziamento si perde con il decreto assessorare del 2016 che l'assessore della salute fu costretto a firmare togliendo dalla programmazione i finanziamenti per il nuovo ospedale di Siracusa a causa delle responsabilità della Giunta precedente del Consiglio Comunale che in cinque anni non riuscì a stabilire l'area dove costruire il nuovo ospedale, cambiando idee e ubicazione dell'area in continuazione, passando da un'area fuori dalla città a un'area sottoposta a vincolo, individuando un'area assolutamente non idonea a svolgere queste funzioni. Tant'è vero che mai è pervenuta l'indicazione all'aspe di Siracusa sulla nuova area che, ripete Vinciullo, è assolutamente inidonea non tanto per il luogo quanto per la forma ad assolvere le sue funzioni. L'assessore Moschella deve per un istante immaginare che il problema dell'ospedale di Siracusa non può essere affrontato insieme con la rimodulazione della rete ospedaliera perché il tema è così epocale per Siracusa da non poter essere confuso in un ragionamento generale da cui si può solo perdere di vista l'obiettivo. All'assessore Razza, dice Vinciullo, qualcuno dovrebbe spiegare che le somme a disposizione per la regione siciliana non sono circa 600 milioni di euro ma sono 635 milioni 599 mila euro e per questo per evitare che già a Prioli facciamo un regalo allo Stato di oltre 35 milioni di euro che corrisponde a un quarto delle somme necessarie a costruire il nuovo ospedale di Siracusa. Intanto a proposito del nuovo ospedale c'è una dichiarazione dell'ex consigliere comunale ed assessore comunale Alfredo Fodi il quale dice stupiscono e sorprendono le dichiarazioni dell'assessore alla sanità Moschella quando rivolgendosi al consiglio comunale chiede di individuare l'area per la realizzazione del nuovo ospedale. Il tema è stato lungamente dibattuto, dice Fodi, trattato, approfondito dentro e fuori le istituzioni fra l'opinione pubblica e soprattutto deliberato dall'uscente consiglio comunale che dopo ben tre deliberazioni e decine di riunioni in commissione urbanistiche e discussioni in aula approdò alla decisione finale di individuare il luogo dove allocare il nuovo ospedale Siracusa nell'ambito territoriale tra Viale Pipoli, Traversa Pizzuta, una porzione di una zona FS2 e l'intera zona S3, la delibere del 17 luglio del 2017. In consiglio comunale intanto si costituiscono i primi gruppi consigliari, uno di centrodestra, Forza Italia, uno di centrosinistra, democratici per Siracusa. Cominciano a essere protocollate negli uffici del Comune le istanze per la costituzione dei gruppi consigliari. Ha depositato la documentazione il gruppo di Forza Italia formato da Federica Barbagallo, Giovanni Boscherino, Alessandro Di Mauro e Ferdinando Messina. Quest'ultimo è stato indicato come capogruppo mentre Federica Barbagallo è vice capogruppo portavoce. Il gruppo ha iniziato a valutare i temi di grande discussione per la città come il problema della gestione dei rifiuti e l'apertura e messa in sicurezza di scuole e asili impegnandosi al fine di analizzare, trovare e proporre soluzioni adeguate che portino al miglioramento della qualità della vita dei cittadini siracusani. Si è formato anche il gruppo consigliare democratici per Siracusa, costituito dai consiglieri Salvatore Costantino, Buonuomo Michele e Andrea Bucchieri. Il neo gruppo consigliare vicino al sindaco Francesco Italia ha estrazioni elettive di diversa natura ma già con visioni univoche. Buonuomo e Costantino eletti nella lista Siracusa 2023, Bucchieri in Siracusa Futura PD. Capogruppo è stato indicato il consigliere Costantino. Apprezzo la fiducia che i colleghi mi hanno accordato e mi auguro che questo gruppo possa diventare con il tempo sempre più coeso nel rafforzare ulteriormente l'intesa con l'amministrazione e la restante coalizione. Tra noi tre sin da subito c'è stata piena intesa sul percorso politico da intraprendere, ovvero quello del fare non soltanto del dire. Noi consideriamo la politica come servizio per la comunità cittadina. Costantino, Buonuomo e Bucchieri hanno poi annunciato che si impegneranno nell'essere leali sostenitori del sindaco Italia ma coerenti con il mandato dei nostri elettori. Adesso facciamo un passo indietro, parliamo del recente incursione dei Carabinieri ma non soltanto anche delle ruspe del comune per demolire la baraccopoli di Contrada Stradico a Cassibile. C'è un intervento da parte di padre Carlo D'Antoni che abbiamo intervistato che dice sostanzialmente non si sconfigge così il fenomeno del caporalato. Sentiamola. Le immagini che state vedendo sono quelle relative proprio al sgombro della baraccopoli di Contrada Stradico alle porte di Cassibile dove a maggio c'erano oltre 200 lavoratori impiegati nei campi della nostra provincia. Oggi invece con sette che sono rimasti perché gli altri sono tutti fuori in Puglia o comunque impegnati in altri campi, i Carabinieri hanno distrutto, demolito la baraccopoli. Padre Carlo D'Antoni, lei ha fatto una nota in cui spiega che il problema è un altro. Certo, due cose io credo di dover sottolineare. La prima è contestare, quando detto dal colonnello mi pare dei Carabinieri, che diceva che questa azione si inquadra nella lotta al caporalato che dovrò sopportare avanti. Non si colpiscono i caporali, cioè i carnefici, rovinando le vittime, cioè gli immigrati, i lavoratori stagionali. Perché in realtà questo hanno fatto, con le ruspe hanno fatto pulizia di tutte le povere capanne che stavano là. È vero che come noi siamo stati lì sul posto le condizioni igienico-sanitarie davvero pessime in questa baraccopoli. Non c'è dubbio, ma il problema quindi è all'inverso. Com'è possibile che accettiamo delle persone che il cui lavoro ci serve? Perché se no nessuno va a raccogliere i prodotti della terra. E poi li manteniamo in quelle condizioni sub-umane. E questo accade a Cassibile, solo a Cassibile. La seconda cosa che voglio dire molto chiaramente è questa. L'attuale sindaco e quindi la sua giunta si è fatta leggere parlando molto di periferie, parlando di cambiamento, giunta di cambiamento eccetera. A tutt'oggi di cambiamento non ne abbiamo visto nulla. E allora siamo alle solite, noi siamo abituati noi cittadini ad essere presi in giro, no? E comunque questo episodio di Cassibile deve essere molto chiarito per comprendere se c'è o meno diversità di testa, di civiltà, di cultura politica nei nuovi amministratori oppure no. Voglio dire, il sindaco è lui che ha dato l'ordine? Se è vero, se è vero come presumo che si debba essere vero, che lui è il sindaco, ha perso completamente la mia fiducia. Otto persone sono state denunciate dai carabinieri per essersi allacciate abusivamente alla rete idrica. È accaduto in diverse parti della provincia dove i carabinieri hanno eseguito controlli. I carabinieri hanno fatto ricorso a un sofisticato macchinario capace di captare vibrazioni meccaniche tipiche della perdita d'acqua dalle tubazioni. Uno stratagemma utilizzato nell'eseguire verifiche finalizzate a individuare forme di dispersione idrica. Nell'ultima settimana i militari delle tre compagnie dei carabinieri presenti in provincia, con l'ausilio del personale dei vari comuni, nonché con i tecnici delle società private, qui è affidata la gestione del servizio idrico, hanno effettuato controlli in tutto il territorio, verificando la regolarità dei contatori presenti presso le abitazioni e gli esercizi commerciali, invitando i cittadini a limitare i consumi e a ridurre al minimo gli sprechi, intimando le amministrazioni comunali a intervenire prontamente in caso di guasti alle condutture pubbliche, intervenendo secondo legge laddove venissero riscontrate violazioni. All'esito dei servizi di controllo, otto persone sono state segnalate alla procura, quali indagati per il reato di furto aggravato. Complessivamente sono stati effettuati dai militari delle compagnie carabinieri di Siracusa, a Augusta è noto, oltre un centinaio di controlli proprio attraverso l'impiego dello speciale macchinario. Il servizio di controllo è stato intensificato in questo periodo estivo anche perché da settimane in molte contrade l'emergenza acqua è una problematica all'ordine del giorno a causa della considerevole presenza di turisti. Nel periodo estivo vede aumentato in maniera esponenziale il numero di abitanti sul territorio. Diversi comuni sono dovuti ricorrere a misure di razionalizzazione per consentirne un'equa distribuzione tra tutti i cittadini. Un problema che ha risvolti in tutti i settori, spiega il comandante provinciale, il colonnello Luigi Grasso, e in particolare nel settore agricolo, dove le culture di frutti e ortaggi stanno subendo considerevoli danni a causa della carenza d'acqua. Eccoci giunti alla seconda parte del telegiorniale. Parliamo del santuario dei festeggiamenti per il 65esimo anniversario, della lacrimazione della Madonnina. L'avvio è stato rinviato, era previsto per questa sera, in realtà si comincia domani con il normale programma. Oggi c'era in previsione un cattivo tempo, per cui consigliato agli organizzatori di rinviare tutto domani. Sarebbero dovute iniziare oggi le celebrazioni per il 65esimo anniversario della lacrimazione con lo spettacolo intitolato Gli occhi della madre, quando venne la pienezza del tempo. A causa delle possibili piogge previste per stasera, però, la manifestazione è stata spostata a giovedì 30, sempre alle 21, nel cortiere dell'Arcivescovado, in Ortigia. Ad inaugurare il 65esimo anniversario della lacrimazione sarà quindi la tradizionale passeggiata in bicicletta, che partirà domani dal santuario alle 20. Il tema di quest'anno riprende un'espressione di Papa Francesco per il pianto della madre e c'è ancora speranza per i figli. Il programma prevede momenti di preghiera, processioni e concerti, come quello che terrà a Suor Cristina sabato alle 21 in Largo Aretusa. Sono tante le attività che ci preparano al 65esimo anniversario della lacrimazione della Madonna Siracusa. Giorno 24 abbiamo la tradizionale passeggiata in bicicletta alle famiglie, faremo un giro in bicicletta, in preghiera, ricordando quel momento in cui Angelo Iannuso, confuso dall'evento della lacrimazione, prese il quadretto e lo portò in giro dai familiari, dai conoscenti. Ecco, da quel giorno questo segno ci dà tanto sollievo, tanto coraggio. Non sono lacrime di disperazione, ma sono lacrime di speranza per tutti noi. Sabato poi il concerto di Suor Cristina, un concerto di evangelizzazione, un concerto a gloria di Dio e della Madonna. Ecco, ci uniremo con i giovani, con le famiglie. È bello che anche la città possa avere un momento di gioiosa festa attorno a una suora che con il suo stile annuncia Gesù e il suo amore alla Madonna. Domenica è il momento a tanto atteso dai fedeli. La benedizione del cotone con l'apertura della teca. E poi il cotone verrà distribuito a tutti. E che in quel giorno noi pregheremo e offriremo al cuore della Madonna tutte le nostre pene, tutte le nostre speranze, le nostre gioie, i nostri dolori. E poi il 27, la grande processione da Piazza Duomo fino al santuario della Madonna delle lacrime. Come a ricordare quando il Vescovo Baranzini incaricò la commissione per accertare l'autenticità del miracolo. Il 28, la preghiera, fino alla mattina dopo, dove ci trasferiremo nella via degli orti. Lì ci sarà la messa tutte le mattine, alle ore 8 e poi tutte le celebrazioni. Intanto rimarrà fino a lunedì la pedana disposta sull'altare del santuario che permette ai fedeli di guardare da vicino all'effigie della Madonna da cui 65 anni fa sgorgarono lacrime miracolose. Servizio civile a Pachino. Approvati i due progetti che riguardano 15 giovani. Per 12 mesi faranno assistenza a minori e tutela ambientale. Sentiamo. Saranno 15 giovani impegnati per un anno in due progetti di servizio civile. Confermato il finanziamento di 78.000 euro dei due progetti approvati dall'Ufficio Nazionale del Servizio Civile, denominati un anno a colori 2018 e il ciclo del riciclo 2018. I progetti, dice l'assessore Santina Baglivo, avranno la durata di 12 mesi e volontari saranno impegnati per circa 30 ore settimanali con un totale di 1.400 ore nell'anno. È possibile partecipare alla selezione inoltrando l'istanza in formato cartaceo indirizzata al Comune di Pachino o tramite PEC. Le richieste potranno essere inviate fino al 28 settembre. Nel primo progetto, un anno a colori 2018, gli otto volontari si occuperanno di assistenze minori e l'obiettivo sarà quello di fornire alle giovani generazioni che scelgono la possibilità del servizio civile un'opportunità formativa. Mentre l'attività al centro del secondo progetto, il ciclo del riciclo 2018, sarà legata alla tutela dell'ambiente dal punto di vista delle emergenze sui rifiuti. Siamo al calcio. Potrebbe, anzi è quasi certo ormai che scatti il 16 settembre, il nuovo campionato di Serie C, lo stop alla campagna acquisti e cessioni è previsto per il 31 agosto. L'Assemblea della Lega Pro nella serata di ieri ha deliberato che il campionato di Serie C comincerà domenica 16 settembre. Il documento sottoscritto dal Consiglio Direttivo è stato approvato all'unanimità da tutte le società partecipanti all'assise. Per il Siracusa era presente l'amministratore delegato Nicola Sant'Angelo, per la Sicula Leonzio il presidente Giuseppe Leonardi, per il Trapani l'amministratore unico Paola Iracani e poi per il calcio Catania l'amministratore delegato Pietro Lomonaco. Sentiamo il presidente Gravina. Abbiamo deciso all'unanimità, le società hanno deciso all'unanimità di rinviare la formazione dei gironi, l'elaborazione dei calendari all'8 di settembre e l'inizio del campionato al 16 di settembre. Ci sarà qualche novità anche per quanto riguarda le promozioni in Serie B? Diciamo che le novità dipendono dalle decisioni del commissario. Noi abbiamo stabilito che dove il collegio di garanzia dovesse lasciare così inalterato il format, dovendo rispettare le norme statutari che prevedono il format della B a 22, abbiamo l'assemblea all'unanimità ha dato mandato al sottoscritto di proporre al commissario la possibilità di effettuare le sette promozioni. Ci sarà qualche novità anche per le date del calciomercato? Abbiamo chiesto una proroga, siamo in attesa che il commissario Fabricini risponda ad una esplicita richiesta da parte nostra e da parte dell'Associazione Calciatori per una leggera proroga del calciomercato. Come si avvicina infine la sua lega alle elezioni che Fabricini dice di voler fare il 22 ottobre? Con molta serenità, con un gruppo assolutamente compatto e con la consapevolezza che il calci italiano ha bisogno di recuperare una governance che possa applicare in maniera coerente e soprattutto responsabile i principi della democrazia. Siracusa e Sicula Leonzio, ancora due rappresentative della provincia Redusea nel campionato di Serie C. Facciamo il punto della sezione di queste due squadre. Con la proroga della fine del calciomercato al 31 agosto, il Siracusa continua la preparazione in vista del match di Coppa Italia di mercoledì 29 agosto, anche se la regina ha chiesto di giocare domenica 2 settembre. Oggi amichevole del Siracusa al Nicola De Simone contro la formazione del Real Siracusa che milita nel campionato di promozione. L'inizio del match è fissato per le ore 17. Intanto è stata rinviata la presentazione dell'argentino Celeste che è dovuto rientrare in Argentina per un lutto improvviso. Possibile uno scambio alla pari con la Sicula Leonzio, con Daffara in maglia bianconera e Aquilanti, difensore centrale, in azzurro. Nel frattempo incontro tra il presidente Ali e il direttore generale Antonello Laneri. Il direttore non è contento del proprio ruolo e dovrà chiarire la propria posizione dirigenziale. La Sicula Leonzio ha intanto annunciato lo spagnolo Mazza che nella passata stagione ha militato nel Pordenone e oggi giocherà in amichevole contro la San Cataldese con l'inizio del match per le ore 18. Sentiamo il centrocampista D'Angelo. Sicuramente è una grande emozione fare gol alla squadra della propria città, però è stato un amichevole, calcio ad agosto non li conosco. Però per me e anche per la mia famiglia è stato molto emozionante. C'erano pure i miei genitori a vedere la partita e erano felici. Con questo servizio chiudiamo il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Alla prossima. Arrivederci. Grazie.